Mercoledì 6 novembre, io sono Matteo Corvo e benvenuti su Notizie a due ruote, la serie dove ogni settimana analizziamo le notizie più interessanti dal mondo della mountain bike. Iniziamo subito con la prima notizia. Finalmente al Ministero dei Trasporti è stato deciso il futuro dei portabici. Hanno valutato una riproposizione delle circolari cambiando di fatto quello che c'era precedentemente scritto. Per i portabici su gancio traino che coprono targa e fari non c'è più bisogno di aggiungere l'elemento al libretto. Basta semplicemente portare con sé il documento di omologazione appunto del portabici. Inoltre è stata rimossa anche quella parte di normativa che impediva di portare le biciclette montate in orizzontale perché troppo sporgenti dal mezzo. Infatti è stato di nuovo permesso di sporgere di 30 centimetri per lato dall'auto fino ad un totale di 2,55 metri massimo di impegno della carreggiata. Sono tornati indietro anche sull'obbligo di spegnimento automatico delle luci posteriori dell'autoveicolo permettendo quindi di avere luci sia del portabici che della macchina accese contemporaneamente. E veniamo alla notizia d'apertura ovvero Santa Cruz ha annunciato di voler chiudere una sede europea a Mainz in Germania. Una sede che attualmente si occupa del montaggio di tutte quante le biciclette europee o comunque della maggior parte non solo tra l'altro di Santa Cruz ma anche di Cervelo. Motivo della chiusura non è ben chiaro. Frontbike, il gruppo olandese che gestisce tutti quanti i marchi compresi Santa Cruz e Cervelo dichiara di voler soltanto ridelocalizzare la forza lavoro in un centro a Dusseldorf più attrezzato e più efficace. Insomma bisogna vedere come Santa Cruz e PON vogliono muoversi nel prossimo futuro soprattutto sul territorio europeo e italiano. Infatti anche per quanto riguarda le gare Santa Cruz come altri marchi sta tirando, almeno sembra, un po' i remi in barca. Infatti ha chiuso recentemente anche il team competitivo internazionale Santa Cruz RockShox, ringraziando comunque per l'esperienza passata ma senza dare notizie o eventuali speranze per una riapertura futura. Tutto da vedere. E non è Santa Cruz l'unica casa che sembra non passarsela proprio bene, infatti anche Flyer Bikes, la famosa casa produttrice di e-bikes svizzera, che pensate produce e-bikes fin dal 1995 che è proprio l'anno di fondazione dell'azienda, sembra avere un po' di difficoltà. La holding che la detiene, di nome Zeg, anch'essa svizzera, già l'anno scorso aveva annunciato un drastico taglio del personale, ridotto ormai a 170 dipendenti nella sede di Atwill, ma anche quest'anno propone un nuovo taglio soprattutto nella parte di amministrazione che fa intravedere una incertezza forte per il marchio Flyer. In ogni caso sempre la Zeg ha dichiarato comunque di voler inserire la distribuzione e la produzione delle Flyer Bikes in tutta quanta la loro filiera tra le varie aziende, questo in ottica di un'economia più circolare e quindi di salvare l'azienda. Speriamo bene per il futuro dei dipendenti soprattutto e per il mercato europeo di mountain bike che sembra sempre più in difficoltà, ma cambiamo argomento. E parliamo di riding. Sì, infatti tutti quanti sapete che qualche tempo fa si è corsa la Red Bull Rampage e Brandon Semenuk come ogni anno è stato il vincitore. Una run in particolare però ha suscitato tantissime polemiche, ovvero quella di Brandon Faircloud che ha ottenuto 76 punti per una linea a mio avviso fichissima. La questione però è proprio che un rider tedesco qualche settimana fa ha percorso la linea di Brandon con una bicicletta usata comprata il giorno prima per 500 dollari, dimostrando forse che quella linea effettivamente tanto difficile non era. Quindi vediamoci un paio di clip di questo tedesco pazzo perché comunque il rischio è elevatissimo, sempre di rampeggio si sta parlando. E veniamo all'ultima notizia che riguarda un rider italiano, tale Toto Testa Torquato, lo conoscete sicuramente tutti, il mountain biker youtuber più famoso d'Italia, conta oltre 400.000 iscritti sul suo canale, ha pubblicato un video a inizio settimana insieme ad un altro youtuber Daniel Valperta dove andavano a giudicare le rider della Rampage, sì perché quest'anno, piccola parentesi, è il primo anno nella storia dove partecipano anche le donne a questa competizione. Ebbene Toto in questo video commentava il riding delle rider appunto, mentre Daniel andava a commentare la parte un po' più leggera, soprattutto l'aspetto fisico delle ragazze partecipanti. Argomento molto delicato e forse non trattato con la dovuta cura, almeno a parere di tantissime persone che si sono lamentate hanno iniziato una vera e propria rivolta contro il povero Torquato, che era colpevole fondamentalmente soltanto di un'erronea comunicazione. Lui si è anche scusato e ha rimosso istantaneamente il video da YouTube. Ciò nonostante ben due sponsor che lo seguivano da tanti anni hanno deciso di tagliarlo fuori. Infatti Industry Nine, che lo seguiva da ben sette anni, ha reciso istantaneamente il contratto. Invece NS Bikes, che lo segui da solo un anno, dopo averci pensato un po', ha deciso anche lei di interrompere questa nuova sponsorizzazione iniziata da pochissimo. Insomma, io non voglio esprimere un'opinione al riguardo perché conosco Toto, è un mio amico, una brava persona, un bravissimo rider, fa tanto lavoro per la mountain bike in Italia e quindi la mia opinione sarebbe troppo influenzata da questo. Voglio chiedere invece direttamente a voi di dirmi cosa ne pensate se veramente l'errore è così grande e imperdonabile da dover punire così gravemente un rider, oppure se la punizione effettivamente è sbilanciata rispetto all'errore commesso. Insomma, ditemi la vostra. In ogni caso, io spero che Torquato abbia espiato tutte le sue colpe e che possa continuare tranquillamente con il suo lavoro. Noi comunque ci vediamo la prossima settimana per un altro video di notizie a due ruote, quindi ricordate di iscrivervi e di lasciare un bel like al video se vi è piaciuto. Ciao 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 ciao